ehi la ciao sognatore ciao sognatrice come va? spero benissimo io sono Elle e benvenuto nel mio canale e benvenuto in questo nuovo video ASMR in italiano buon mel coledi il mercoledì con Elle oggi sono qui per rilassarti come sempre e in questo video ho vari triggers per te una delle mie tipologie di video preferite i triggers e and 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 mic brushing Mic brushing il 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 nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 L'ultimo trigger. Uno dei miei preferiti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonanotte. Al prossimo video.